Se siete degli automobilisti distratti, dovrete cercare di porre maggiore attenzione nei vostri comportamenti alla guida. Torna infatti in azione a Ragusa lo Street Control da oggi fino al 31 gennaio. A renderlo noto il comandante della polizia locale, i controlli che interessano tutto il territorio cittadino consistono in rilievi di infrazioni al codice della strada, con l'apparecchiatura elettronica denominata appunto Street Control, al fine di migliorare la circolazione veicolare e la tutela della sicurezza stradale del patrimonio comunale. Lo Street Control è in grado anche di rilevare quali mezzi siano sprovvisti di copertura assicurativa attraverso il collegamento telematico con un database centralizzato. A partire da oggi, ogni giorno fino alla fine del mese, cambieranno le zone interessate. Attenzione alta dunque ad essere automobilisti rigorosi e disciplinati, anche se le rigide temperature di questi ultimi giorni hanno già imposto agli automobilisti ragusani di procedere con maggiore lentezza e di osservare con più attenzione le disposizioni di sicurezza, soprattutto se ci si avventura fuori città, verso le zone più montuose. Il comandante della polizia locale di Ragusa, Giuseppe Puglisi, assicura in ogni caso che gli automobilisti ragusani risultano tra i più disciplinati, ponendo attenzione alla guida seguendo le regole per i dispositivi di sicurezza, quali cinture e catene da neve a bordo. Insomma, street control e maltempo non coglieranno impreparati i ragusani.